è partito ma io non lo so che fa ma qui non si vede niente allora è tutto a posto ci siamo togliamoci il guido mettiamoci fuori campo qua attenzione concorrenti al fischio si parte Pino fuori dal campo è l'estate l'estate quindi eliminata si riparte si riparte perché sono tre manche per stabilire la coppia la coppia è l'estate andiamo a qualche secondo di pausa ma sono tutti giovanissimi senti a posto ho di ripreso fiato no? si si aspetta aspetta sono così così è così no è l'estate è l'estate autunno a posto inverno a posto primavera a posto attenzione pronte è la volta per l'autunno, terzo posto per l'autunno e quindi il finale tra la primavera e l'inverno. Hanno schierato tutti e due i vice capitani, Magoletta per l'inverno e Alessandra per la primavera. Facciamo riprendere fiato nella finale di questa prima marce, poi in campo ci saranno i maschietti. Sabrina hai notizie dei nostri ospiti? Sì, sì, sono arrivati, sono pronti, sì, sì, e sono ansiosi di esibirsi. Per la prima volta insieme? Tornano insieme dopo vent'anni, sì, ci canteranno un pezzo unico per loro, li canteranno dopo vent'anni questo pezzo insieme solo per San Giovanni Teatino. Quindi ancora una volta un'esclusiva per giorni senza pensiero. Noi abbiamo solo ospiti in Escosia. Allora, ci siamo, vediamo un po' se le concorrenti mi danno un ok. sento odore di frittata, è vero Guido, tu senti le cipolle. Ok, primavera. Inverno ok. Pronte? L'imposte è una sfumata! Una sfumata! Una sfumata! Una sfumata! Buona sfumata!